In sole poche ore sono riusciti a visitare ben sei abitazioni, tutte nell'arco di circa un chilometro. Nel mirino dei malviventi è finita la frazione di Manciano, nel comune di Castiglionfiorentino. Una banda di almeno quattro persone è entrata in azione nella serata di ieri. Il tutto è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. Nelle immagini si vede un uomo con cappellino e passamontagna venire via da una delle abitazioni prese di mira con un ombrello e una bottiglia d'acqua. Siamo veramente molto preoccupati, quasi da non dormire la notte. Quindi questa è una situazione, un clima che emette molta preoccupazione in tutti noi. Il primo colpo attorno alle 22.30 a mettere in fuga i ladri le urla dei proprietari di casa. Quindi la banda indisturbata è entrata nelle altre abitazioni dove ha fatto razzia di orologi contanti e preziosi. Infine la fuga a bordo di un'audi scura. Nelle scorse settimane, sempre nella stessa zona, altre due abitazioni erano state visitate dai ladri. Si allunga così la scia di furti e tentati furti nelle frazioni dell'aretino e cresce anche la preoccupazione. Senti un rumore e magari ti vieni da facciarti, vedere, quindi avere tutto sempre una situazione di ansia continua. Da poter dire non esco di casa, ma nemmeno questo poi dopo ci fa stare tranquilli perché tante persone sono entrate mentre dormivano in casa, quindi violando veramente la nostra privacy, la nostra intimità, la nostra sicurezza, la tranquillità di essere sicure almeno in casa nostra.